Salve a tutti da Luca Viscardi, siamo qui nello stand della BlackBerry, vediamo velocemente i prodotti presentati. Questo è il Torch 9800, qui abbiamo il BlackBerry Curve 8520, tutti mostrati come vediamo in due colorazioni, questo è il Silver, è quello di primare il nero, qui abbiamo il Curve 9300, nero e qui vediamo Bordeaux viola. Infine qui abbiamo il Gold 9780, versione nera e versione bianca. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.